Salve sono Urbano della Salle Moreno Volkswagen Audi di Cucetti e oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture usate si tratta di questa Ford Kuga ed è di cilindrato 1.5 turbo diesel 120 cavalli allestimento Connect dell'anno 2020 precisamente nel mese di novembre quindi una vettura recente unico proprietario chilometri certificati e dopo vedremo proprio lo specifico intanto andiamo ad osservare lo stato d'uso della carrozzeria esterna di questo colore grigio scuro metallizzato cosiddetto antracide e guardate qua l'esterno di questa vettura veramente brillante luminoso infatti come potete osservare non ci sono abbaccature non ci sono graffi qualche piccolezza da macchina usata ma cose veramente minime e minime e infatti l'esterno come potete vedere è bello e brillante la linea naturalmente è quella moderna ultima della Ford Kuga quindi una vettura veramente recenti andiamo a questo punto anche ad osservare le dotazioni tecniche della nostra auto partiamo quindi dal frontale dove troviamo i fari anteriori a led con la luce di una led fari fan di nebbia e sensori intanto nella parte anteriore e mentre nella parte posteriore troviamo sempre i soffarettini a led i sensori anche posteriori cerchi in lega anche i suoi originali da 17 pollici abbinate alle sue gomme estive e sempre tutte da sfruttare e siamo adesso all'interno della nostra Ford Kuga andiamo ad osservare esteticamente il disegno sia del cruscotto dei pannelli delle porte le dotazioni tecniche partiamo proprio dall'estetica dal disegno del cruscotto guardate quale plastiche belle lucide come sono belle e lucide senza graffi senza usure le parti satinate la console centrale i pannelli guardate qua anche qua le parti satinate cromate tessuto delle di rifinitura le plastiche belle senza graffi senza usure e quindi l'interno è veramente tenuto in un modo spettacolare mentre le dotazioni tecniche le troviamo intanto partiamo dal bracciolo centrale appoggia gomito dagli interruttori del freno a mano e dell'aiuto al freno a mano leva del cambio manuale a 6 marce qui sulla qui accanto abbiamo l'interruttore per escludere i sensori di parcheggio dopodiché abbiamo anche l'interruttore per modificare lo stile nostro di guida che vogliamo vedete sport basta bassa aderenza con negro sabbia oppure normale quindi la vettura la configuriamo a seconda anche del terreno su cui si viaggia sempre sulla console centrale troviamo il climatizzatore automatico di zona in basso troviamo la presa per caricare il nostro cellulare e due prese usb tasti per lo stereo dopodiché sul display centrale che basta un semplice tocco per modificare le nostre funzioni per cercare anche le nostre funzioni cosa abbiamo partiamo dal bluetooth quindi possiamo abbinare il nostro cellulare per fare e ricevere le telefonate troviamo poi il ford pass connect quindi android auto oppure apple carplay sempre per abbinare il nostro cellulare avere e trasferire più funzioni dal cellulare alla nostra vettura troviamo il suo navigatore naturalmente integrato nella vettura e guardate qua anche altre vedi la app per collegare il cellulare tramite la pressettina usb il controllo vocale quindi abbiamo tante tante funzioni nella nostra auto poi abbiamo anche i quattro interruttori dei vetri elettrici e l'interruttore per la regolazione elettrica degli specchietti esterni tutti gli interruttori per i fari il volante multifunzione dove in questo caso vediamo gli interruttori per il cruise control mentre dall'altra parte troviamo per il menu e tutti i comandi che abbiamo appena visto sulla console centrale quindi possiamo fare tutte le cose senza mai togliere le mani dal volante il volante è rivestito completamente in pelle display centrale dove abbiamo anche il chilometraggio i chilometri sono infatti 97.760 e sono come vi dicevo chilometri certificati tappezzeria interna di questo bel tessuto nero e guardate qua anche questa bella e spettacolare e pulita poi sul tessuto non troviamo strappi e usure non troviamo anche buchi di sigarette perché il precedente proprietario non fumava quindi torno a dire bella e pulita poi come il nostro solito la tappezzeria è stata lavata e igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica infatti quando saliamo all'interno del nostro abitacolo l'accoglienza è veramente eccellente guardate qua anche la tappezzeria posteriore sempre bella e pulita e adesso il vano bagagli guardate qua ampio squadrato dove possiamo caricare bene i nostri bagagli abbiamo poi il sedile posteriore sdoppiato e abbattibile quindi per aumentare ancora di più il nostro vano di carico sotto poi il pianellino troviamo il ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura andiamo a vedere anche il nostro vanutore con tutti i suoi componenti al loro posto è bello da vedere guardate qua pulito tutto al loro posto perché questa vettura ha fatto anche tutta la sua manutenzione regolare poi prima di essere messa in vendita le nostre macchine usate vengono comunque controllate presso il nostro service affinché la vettura sia comunque bella da vedere e completamente funzionante dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia assicurativa con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni che vi saranno naturalmente spiegati in sede e adesso salite in macchina insieme a me e andiamo a accappare un giro di prova su strada e partiamo per il nostro giro di prova analizziamo un po' di aspetti prima di tutto la posizione di guida bella comoda perché abbiamo la seduta del sedile e lo schienale del sedile molto larghi quindi comodi appena ci saliamo sopra poi è una guida rialzata perché naturalmente siamo su un SUV quindi visibilità ottima anche perché il vetro anteriore è veramente grande di conseguenza la visibilità è veramente eccellente poi abbiamo il pedale della frizione morbido preciso nello stacco come morbido e preciso è anche la leva del cambio quando inseriamo le marce assetto stradale anche questo ottimo perché la vettura va dritta su strada volante dritto e non sentiamo assolutamente nessun tipo di vibrazione sulle gomme perché sono tra l'altro ottime scatola di sterzo precisa e leggera in sonorizzazione dell'abitacolo eccellente non c'è un rumore non c'è uno scricchiolio non c'è un battito quindi veramente ancora una vettura ancora tutta tutta da sfruttare poi i comandi i comandi al volante di pronta visione di pronto contatto quindi abbiamo tutto sotto controllo senza naturalmente togliere le mani dal volante ma anche lo volessimo fare sarebbe meglio di no abbiamo tutto naturalmente a portata di mano vedete con un semplice tocco io vado a cercare le funzioni della mia vettura quello di cui ho bisogno climatizzatore funzionante display completamente funzionante comandi tutti funzionanti quindi una vettura pronta per essere acquistata se poi abitate lontano ve la possiamo anche presentare in anteprima con una videochiamata in diretta tramite whatsapp passando al motore abbiamo detto è il nostro 1500 turbodiesel 120 cavalli 4 cilindri il cambio manuale a 6 marce allora di pronta ripartenza è molto agile nel guidare anche nel percorso cittadino come stiamo facendo in questo caso però ha anche un'ottima scorrevolezza su strada nei viaggi lunghi è una vettura che scorre veramente molto bene perché quando inseriamo la quinta e la sesta marcia facciamo facciamo tanta strada adatta anche per la famiglia perché la vettura è spaziosa spaziosa sia nell'abitacolo che nel bagagliaio quindi è una vettura completa a 360 gradi moderna perché ha tutti gli ultimi ritrovati anche a livello di computerini di bordo e cose varie dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni a questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto troverete naturalmente anche il prezzo seguiteci poi su social facebook e instagram il nostro indirizzo Sanico Cerchio questa Ford Cuga è già disponibile quindi potete già venire a vederla perché no approvarla su strada insieme oppure telefonate ai nostri numeri vi sarà comunque risposta a tutte le vostre domande un grazie per l'attenzione e come diciamo sempre alla prossima vettura grazie a tutti